Musica Visite mediche ed esami gratuiti questa mattina per gli ospiti della Casa degli Angeli di Campobasso l'iniziativa che rientra nell'ambito della giornata per la salute e per la prevenzione delle malattie oncologiche e cardiovascolari le visite sono state effettuate da specialisti della Fondazione Giovanni Paolo II, Mauro Carafa Dare assistenza sanitaria a chi non ne ha le possibilità Alla Casa degli Angeli di Campobasso il personale medico e infermeristico della Fondazione Giovanni Paolo II è stato impegnato in visite e analisi in chiave di prevenzione cardiovascolare e oncologica a cui sono seguiti consulti medici personalizzati I primi chiaramente esami sono esami di screening, esami comuni, quindi funzionalità renale, epatica, tiroidea e quant'altro dopodiché chiaramente il metabolismo lipidico, emocromo, coagulazione dopodiché praticamente affrontiamo delle problematiche di tipo personale cioè se il paziente presenta praticamente delle patologie di qualsiasi natura noi chiaramente andiamo ad approfondire il percorso diagnostico La Fondazione ha intrapreso un percorso condiviso con la Caritas Diocesana che gestisce la Casa degli Angeli nel rispetto di una visione autentica della propria missione La Fondazione Giovanni Paolo II dalla sua nascita ha avuto un occhio di riguardo nei confronti degli ultimi per due motivi sostanzialmente uno perché questa è la mission dei medici in generale perché il medico è nato per aiutare il malato, per soccorrerlo poi perché siamo anche un'associazione cattolica quindi abbiamo dei principi che vanno ben al di là di quello che possono essere i semplici conti o l'efficienza o i risultati o gli standard o le performance Recenti studi confermano che la condizione di disagio sociale ed economico contribuisce all'insorgenza di patologie perché si tende a non prestare attenzione alla cura della propria salute Spesso, inconsapevolmente, si favorisce lo sviluppo di malattie che se non curate in tempo possono degenerare facilmente La diagnosi precoce è dunque fondamentale Grazie Grazie Grazie.